Gira, gira, gira Da Grotta a Mare e dal BP Disco Dinner iniziamo a girare un nuovo servizio di weekend e dintorni BB, un punto di riferimento della Nightlife 32 anni di esperienza per una notte magica, solo per voi iniziamo a girare Superstar DJ Emiliano Ferracuti, direttore tecnico del BP Disco Dinner Per tutte le regine e per tutti i re che scelgono di mangiare qui da noi abbiamo la nuovissima sala Show Queen Restaurant Venite a mangiare da noi, vedrete che rimarrete assolutamente piacevolmente soddisfatti Il nostro programma è il 25, ovviamente il giorno di Natale, con Rockstar Una serata veramente speciale e poi il fantastico capodanno del BP Disco Dinner che si chiama Baciami Quest'anno è veramente molto bello Scegliete il BP anche a metà gennaio, abbiamo una chicca per tutti quanti, il concerto dei Club Dogo Lucia Fiorillo, Paul Richard, una sfilata di uomo-donna Uomo interamente creati da noi, abiti, sono la stilista del marchio E la donna, troverete le cose che abbiamo al negozio Mara Girone, mi per Tonic Anche Tonic sceglie il BP Disco Club per festeggiare con una cena e con un intrattenimento serare La fine di una stagione Sì, anche Club Fitness, una volta l'anno almeno, anche di più E' abituato a venire qui al BP per festeggiare insieme a tutti i clienti Visto che sono tantissimi e fare una bellissima festa qui a questo bellissimo locale Tony Jacoponi Il 21-12-2012 si dice, in base ad una leggenda, che il mondo finirà Tu cosa ne pensi? Finirà o non finirà? Noi siamo stati scelti come location unica dove non accadrà niente Quindi sabato prossimo, 22, sarà una serata speciale Chi sarà qui, si salverà Bisogna adeguarsi a quello che è la richiesta del pubblico E quindi diciamo che proporre sempre quello che il mercato vuole E dare un prodotto all'avanguardia Johnny Schiuma, direttore artistico Il BP è una delle realtà più importanti delle marche del centro d'Italia, oserei dire Sono 32 anni che mantiene un livello sempre in evoluzione E' una struttura ampia, riesce a raccogliere varie esigenze Di più generazioni, dai più giovani ai meno giovani Vocalist, Bibi, Disco, Diner, Falo, Rob Quanta energia questa sera? Questa serata abbiamo Nari e Milani Poi avremo tanti ospiti Faremo la festa Rockstar E il 31-12 Il grande Capodanno Bibi Nari e Milani Due ospiti e due music producers Ci sono diverse cose, diversi spettacoli Tour in America, Tour in Australia Tour in India Quindi fino a maggio Siamo proiettati già verso l'estate Qui la serata Ricordo che è stata una serata molto importante Molto bella, ci ha segnato Quindi penso che Anche la musica dell'anno scorso Così non sbagliamo È una nostra prerogativa Far divertire tutti quanti assolutamente Luca Calem, DJ number one su tutta la riviera Buonasera abbiamo fatto una bellissima cena animata Il bimbi non delude mai come sempre Chi vuole fare un Capodanno Bello, al giusto prezzo Può sicuramente scegliere Bibi di Scottina Gianni, invitarvi a venire per il Capodanno Non è vero, non venite, non venite È il primo che lo dice, quindi Non venite Come si dice? Se vi volete divertire, venite Se non venite, non venite Weekendo dintorni Insieme a Bibi di Scottina Sai cosa fa? Gira 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti